Questo programma è offerto da Tecnocampus Martedì 7 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi in questa nuova edizione della Rassegna Stampa che come ogni mattina è offerta sempre da Tecnocampus Anche oggi vedremo che ci sono tanti fatti in primo piano ancora di atribe all'interno del governo, soprattutto sul caso Siri ma tante, tante, tante informazioni e tanta possibilità di discutere proprio dei fatti che in primo piano andremo ad esaminare a breve e infatti vediamo subito con il Corriere della Sera quali sono le notizie che questa mattina ci balzano all'occhio e infatti cominciamo proprio dal governo la prova di forza sul caso Siri, duello, Lega, Conte il sottosegretario non si farà interrogare Salvini ferita aperta Di Maio vuole la rottura infatti sul caso Siri per la Lega e 5 Stelle arriva il giorno decisivo ma il Premier Conte in Consiglio dei Ministri non andremo alla conta Salvini difende il sottosegretario anche sulla questione del mutuo lo fanno tutti gli italiani Di Maio però insiste, va rimosso Siri non si farà interrogare se il Vice Premier leghista parla di ovviamente di ferita aperta il leader dei 5 Stelle lo accusa di volere la rottura e intanto continua la sfida a colpi di tweet e infatti che la politica viaggiasse anche da tempo e sempre più sui social non è certo storia nuova ma che anche la politica istituzionale si sfidi a colpi di tweet tra un ministro dell'interno e l'altro della difesa è cosa di questo governo ovviamente non ci si parla faccia a faccia ma ci si parla Facebook, via Facebook o via Twitter e soprattutto questo crea delle rotture sempre più insanabili visto che quando non si comunica guardandosi in faccia la difficoltà diventa ancora più evidente soprattutto quando stiamo parlando di due istituzioni che dovrebbero ovviamente non avere mediazioni ma ancora continuiamo a vedere le notizie dalla prima pagina del Corriere della Sera e vediamo nella parte alta che Meghan ha partorito nella mattinata di ieri è infatti nato il Baby Sussex Harry, esperienza incredibile e intanto continuiamo ancora a vedere le notizie dalla prima pagina il senso di un voto siamo nell'editoriale di Panebianco l'inerzia non giova all'Europa e per quanto alla luce dell'esperienza passata ciò risulti inusuale uno strappo rispetto alla tradizione è un fatto che per la prima volta l'Europa avrà qualcosa a che fare con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo una parte almeno dei cittadini europei voterà pensando all'Unione scioglierà e sceglierà un partito o l'altro in funzione dei suoi orientamenti in materia di integrazione europea e in passato non è stato così infatti in passato le elezioni europee erano una specie di costoso sondaggio con il quale veniva misurato il grado di consenso o ostilità dei cittadini dei vari paesi nei confronti del loro governo nazionale insomma adesso sembra essere tutto modificato tutto cambiato adesso si vota con la capacità di vedere di scegliere, di ascoltare vedremo se effettivamente sarà fatto in questo modo e ancora continuiamo a vedere nella parte centrale della pagina una fotonotizia che riguarda i rapporti tra America e Cina la Casa Bianca perdiamo troppi soldi e infatti Trump va all'attacco sui dazi e così le borse scendono borse giù infatti borse in calo per la guerra Stati Uniti, Cina sui dazi Donald Trump ha minacciato di alzare i dazi con Pechino perdiamo troppi soldi basta ha detto il Presidente e Washington parla di scontro di civiltà e intanto vediamo che cosa sta accadendo a Torino nuove defezioni ma altri presidio antifascista infatti il Salone di Torino il Salone del Libro proteste e a rinunce e gli scrittori intanto si dividono infatti si allunga la lista di chi dopo Wumink e Carlo Zingburg dice no al Salone del Libro di Torino contro la partecipazione della casa editrice sovranista Altaforte che pubblica il libro intervista di Matteo Salvini non ci saranno zero carcare Roberto Pimini Salvatore Settis e Tommaso Montanari le defezioni hanno spinto molti autori ad aggregarsi intorno al Salone da Marco Massiroli ad Alessandro Robecchi da Silvia Ballestra a Antonella Lattanzi molti sui social hanno rinunciato l'hashtag io vado a Torino insomma una vera e propria lotta per questo Salone del Libro e adesso ovviamente si è spaccati proprio sulla questione politica è un Salone che comunque è stato politicizzato oppure c'è ancora la possibilità di fare della cultura un mezzo per andare oltre la politica ossia parlarne discuterne essere anche talvolta sovversivi ma comunque non essere assolutamente di parte ovviamente questo non è umano purtroppo è così dovremmo essere tutti un po' al di sopra delle parti ma a quanto pare sembra essere impossibile e ancora vediamo le altre notizie dalla prima pagina del Corriere della Sera un altro fatto in primo piano riguarda Genova e il Ponte Morandi vediamo prima della demolizione sta accadendo proprio questo l'addio alla mia casa infatti gli sfollati del Ponte Morandi hanno due ore di tempo ciascuna a disposizione per prendere il più possibile di quello che resta e non tornare mai più nelle loro case l'ultimo atto per chi abitava in questo spicchio di Genova prima della demolizione un ultimo saluto a quelle mura che non rivedranno più qualche lacrima scivola sul volto insomma questa è la realtà dopo il crollo del Ponte Morandi adesso ovviamente chi aveva delle case chi abitava proprio nei pressi di questo ponte è stato già costretto da tempo ad abbandonare tutto e adesso ha proprio l'ultimo spiraglio di tempo per poter recuperare degli oggetti si spera che riescano a recuperarne quanti più possibili ovviamente due ore di tempo rappresentano proprio un limite incredibile e ancora vediamo nella parte bassa della pagina vediamo la parte del piede dedicata da Gramellini a quella che viene definita l'arma disarmante mi si nota di più se non vado al salone del libro perché lascia spazio ai fascisti oppure se ci vado perché non voglio lasciare spazio ai fascisti il dilemma del pensatore sinceramente democratico è sempre il solito come comportarsi di fronte all'uomo nero che ieri si chiamava Berlusconi e oggi Salvini la presenza tra gli stentorinesi di una casa editrice vicina a Casa Pound passerebbe quasi inosservata se non si trattasse della stessa che pubblica Io sono Matteo Salvini selfie del truce in forma di parole dal titolo liberamente ispirato ovviamente a Ouija e sui Katsuin Denev siamo allo scontro tra due ossessioni come Salvini in colpa i comunisti di qualsiasi cosa non venga fatta specie di quello che aveva promesso di fare lui così certi intellettuali che dispensano patenti di democrazia si indignano ormai solo se c'è Salvini di mezzo e insomma anche in questo pezzo di Gramellini ovviamente si parla del salone del libro ancora di Matteo Salvini e ovviamente delle diverse ideologie politiche ma continuiamo a vedere i fatti in primo piano ci spostiamo adesso sul fatto quotidiano e partiamo dall'alto con la prescrizione salva i medici che lasciarono morire Cucchi nel terzo processo di appello non sarebbe scattata se dieci anni fa ci fosse stata la spazza corrotti e ancora vediamo nella parte centrale della pagina vediamo l'articolo di apertura Camera e Senato un anno dopo ecco chi lavora e chi no l'assenza e presenza è il fuggi-fuggi forzista i più assenteisti a quanto pare sono la Brambilla di Forza e Italia e Cerno del PD stacano visti al 100% invece Bella a Coto e Croatti in Movimento 5 Stelle infatti a Montecitorio Angelucci risulta presente una volta su dieci sgarbi tre volte su dieci a Palazzo Madama spiccano per diserzioni Ghedini la Craxi e la Russa ma crescono i DDL approvati di iniziativa parlamentare e ancora vediamo le altre notizie nella parte centrale Zinga sconfessa Zanda ma poi fa retromarce a stipendi troppo bassi e si parla appunto del pasticcio del PD e intanto nella parte centrale della pagina Milano indaga sulla casa di Siria e sui soldi alla Ollus della Lega l'associazione più voci finisce così nel mirino anche dei PM Meneghine il tesoriere del Carroccio centemere già sotto indagine a Roma per finanziamenti illecito per la società senza scopo di lucro vicino ai Padani che ovviamente presiede e intanto vediamo ancora lo sblocca cantieri piccoli appalti meno gare più rischi di cartello mentre sul caso Viterbo per la procura legittima difesa riforma inutile il prossimo passo sparare a chi occupa e ancora nella parte bassa della pagina vediamo le storie raccontate dal fatto quotidiano vive a sotto i ponti al secondo album da il barbone del folk insomma fa vedere proprio in questa prima pagina come è possibile ancora una volta cambiare la propria vita dal non avere niente a cominciare veramente a dare una svolta al proprio percorso di vita e vedere che effettivamente qualcosa si può fare non tutto è perduto anche se molto spesso abbiamo questa incapacità di riuscire a dare un senso alla nostra esistenza perché troppo spesso ci buttiamo giù al punto di dire no non ce la faremo mai e invece proprio l'opposto dobbiamo trovare la carica in noi per svoltare anche quando tutto sembra ormai perso questo credo che sia il piccolo segreto che tutti quanti apprendiamo da questa vita giorno dopo giorno ma non sempre riusciamo a metterlo in pratica cerchiamo di fare qualcosa in più ma cominciamo ancora a vedere gli altri fatti dal quotidiano libero vediamo la prima pagina e vediamo pure 5 stelle prendono soldi pubblici e infatti libero fa i conti in tasca ai grillini il movimento dice di non incassare rimborsi elettorali peccato che i suoi gruppi parlamentari nella scorsa legislatura abbiano in realtà ricevuto 31 milioni cifra che triplicherà nei prossimi anni ultima di pentastrellati meno fondi ai militari per nazionalizzare l'acqua e intanto si parla delle balle sul clima altro che il pianeta sesso riscaldato il cervello dei gretini così titola appunto raccontando di questo tempo sempre più bizzarro e delle temperature che sembrano non essere così elevate ma ovviamente il surriscaldamento della terra finora era un fatto adesso viene posto in dubbio proprio da questa testata e ancora vediamo nella parte centrale della pagina sua santità non faccia beato mio padre la figlia di Aldomoro scrive infatti al Papa e infatti ancora vediamo nella parte bassa della pagina commercianti disperati da luglio ricevute elettroniche bisogna abolire lo scontrino digitale intanto nella parte destra della pagina il livore logora chi ce l'ha l'odio rafforza la volontà e Salvini intanto insegna e il piano di Matteo per fregare Movimento 5 Stelle sulla vicenda si rispunta infatti un'altra indagine nella parte bassa della pagina piacciono gli opinionisti o i casinisti si interroga appunto questa mattina libero se non la spari grossa non ti chiamano in tv e sembra proprio questo essere il primo requisito per essere chiamati nella tv di stato ossia creare il più possibile caos confusione essere quelli che urlano di più che la dicono più grossa e che comunque fanno discutere fanno sicuramente non riflettere ma certamente chiacchierare e questo diventa il primo obiettivo e ancora cavallo batte trattore la svolta in Franciacorta vero motore tra le vigne di bella vista anche questa è una bella notizia per quanto riguarda il nostro made in Italy soprattutto perché si pone un freno a ciò che è meccanico ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo cosa racconta in questa giornata il giornale e nella parte alta della pagina eccoci qua Salvini ha cerchiato la vigilia del verdetto caos caso Siria orologeria aperto un'inchiesta su una casa del sottosegretario e i grillini sono scatenati la crisi è iniziata ma sarà congelata fino all'europei e intanto quello che viene definito il governo Rosis insomma ancora un scontro diretto proprio un paradigma con quello che è un rapporto raccontato in un famoso in un celebre film uno scontro tra due che sono appunto Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ancora una volta dalle prime pagine dei quotidiani viene raccontato come qualcosa di insanabile e ancora Meloni chiama Fini dialogo a destra dopo nove anni di silenzio e intanto il volume boicottato io autrice del libro nella bufera infatti ci sono voluti quasi cinque anni per scrivere come la sabbia il mio primo libro era il 2014 quando decisi di mettere nero su bianco le mie esperienze di inviata di guerra volevo rendere omaggio ai caduti in Afghanistan terra a cui ho messo i piedi 11 volte nel 2015 mi sono ammalata di cancro al seno e così è iniziato tutto questo percorso ma adesso a quanto pare il volume è stato boicottato e ancora vediamo nella parte bassa della pagina altro che il reddito di cittadinanza la riviera adriatica non trova pensate un po' 500 camerieri e intanto nella parte centrale della pagina vediamo un'immagine di Berlusconi che ovviamente nei giorni scorsi è stato sottoposto a un intervento chirurgico uscito dall'ospedale dice ho avuto paura ma adesso sono pronto per le elezioni che se ne pensi ovviamente della politica questa forza rappresenta uno sprone per chiunque si trovi a vivere una simile condizione ma soprattutto una vita sempre in primo piano ma anche con la caducità dell'essere umano e ancora vediamo nella parte bassa della pagina perché Unicredit lascia Facebook il colosso bancario e la battaglia della privacy e intanto il declino del paese è sparita la classe media spremuta da euro e mutui insomma questo è il risultato che viene raccontato dalle pagine economiche di questi nostri giornali di questi nostri quotidiani che raccontano appunto di una classe media che effettivamente è evaporata perché troppo spesso le tasse ma comunque varie vicissitudini hanno reso impossibile la vita proprio di questi elementi importanti una volta della nostra società e adesso e adesso beh continuiamo a vedere la nostra rassegna stampa ma lo facciamo solamente dopo qualche attimo di pubblicità non andate via non andate via non andate via all'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro ed eccoci di nuovo in studio pronti come sempre a continuare la nostra rassegna stampa stiamo ancora guardando le prime pagine dei quotidiani nazionali adesso andiamo a vedere i titoli della prima pagina del tempo e vediamo che cosa questa mattina porta in primo piano la camera dei baby pensionati l'attenzione è posta proprio su questa categoria entrano infatti in vigore le nuove regole per i dipendenti niente uscite prima degli 60 anni ma attenzione perché ci sono ancora due finestre per 48 fortunati che potranno salutare ovviamente in anticipo e ancora vediamo nella parte più bassa di questa prima parte il Royal Baby è arrivato ma il nome ancora no e intanto nella parte relativa all'Italia Antonio Tagliani nell'abitacolo Salvini sia furbo e potrà governare insieme al PPA e intanto ci ha comprato una casa a Bresso un altro guaio per Siri l'indagine sul super mutuo continuano infatti i problemi proprio per Siri e nella parte bassa della pagina bomba antifascista contro i tifosi della Lazio un ordigno davanti alla sede degli irriducibili la pista della vendetta per lo striscione in memoria del Duce e continuano le tensioni e le proteste nel quartiere casa popolare ai Rom rivolta a Casal Bruciato ed infine capo sicurezza i due vigilantes tre persone indagate per il rogo al TMB salario ed infine nella parte bassa della pagina eccoci qua i tifosi della Roma sognano l'arrivo dell'ex CT azzurro Conte dice al 60% all'Enero in Italia e continuiamo ancora a vedere i fatti che troviamo in primo piano sulle pagine nazionali vediamo Repubblica e parte proprio dalla gelata di maggio Conto dell'Italia 93 miliardi in due anni guerra dei dazi rallentamento del PIL spread manovra correttiva ecco quanto ci costeranno lo scontro fra USA e Cina fonda piazza affari ecco trelli la nostra fragilità viene sottovalutata e intanto l'ultimo avviso al governo dei sonnamboli viene raccontato in una fredda analisi proprio di queste vicende intanto l'emergenza è raccontata finalmente Salvini va a Napoli a trovare Noemi il padre la porto via da questa città e intanto ancora una volta si fa polemica proprio su questa vicenda su questa bambina che è stata ferita semplicemente perché si trovava in strada e qualcuno non ha ritenuto la vita di una bambina qualcosa che potesse essere un ostacolo ai propri piani e questo è quello che oggi raccontiamo e questo è quello che purtroppo troppo spesso sentiamo e ancora una volta vediamo che sui social network si parla tanto di questa bimba ma soprattutto ci sono anche tanti profili che raccontano ancora una volta dell'odio razzista che proprio dalle pagine dei social viene messo sempre più in evidenza visto che ci sono tanti profili che continuano a dinneggiare alla morte di chi è innocente e giustamente semplicemente è nato nel meridione di Italia soprattutto a Napoli e viene considerato qualcosa di basso di poco importante e da estirpare insomma attenzione a quello che sta facendo ovviamente il Facebook Instagram e tutti i social network ossia dare la possibilità di parlare senza azionare troppo spesso il cervello e ancora vediamo l'allarme rischio estinzione per un milione di specie animali questo è l'allarme che arriva guardami per l'ultima volta guardate questa immagine ossia la figura di un animale che ancora è presente sul nostro pianeta ma troppo spesso purtroppo ovviamente si va verso l'estinzione e ancora vediamo nella parte bassa della pagina il dovere di andare al salone nonostante i nuovi fascismi ancora polemiche per il salone del libro di Torino e intanto il bimbo che non sarà il re ma è già lui il più famoso di tutti infatti stiamo parlando del figlio di Megan e Harry e ovviamente fa già parlare di sé fa discutere ma soprattutto rende viva proprio la vita di tanti abitanti non solo della Gran Bretagna ma anche del mondo intero e intanto continuiamo a vedere il mattino questa mattina appunto scusate il gioco di parole che cosa ci presenta e si parte proprio dalle notizie brevi quelle immediate la grande musica in primo piano papà noi chiama il coro del San Carlo per l'inaugurazione di Santa Cecilia e per quanto riguarda il San Paolo andiamo verso il restyling i sedili rossi souvenir per i tifosi smontati ecco qua vediamo un'immagine e portati via intanto all'assedio all'assedio stiamo parlando di Pompei c'è la supplica e scoppia proprio per la tanta gente che è andata in questo luogo scavi chiusi dopo 15.000 ingressi insomma sempre più le persone sembrano invocare i luoghi sacri ovviamente in questo mese di maggio ancora di più visto che è proprio il mese dedicato alla supplica alla Madonna del Rosario di Pompei e quindi rappresenta un momento importante per tanti che corrono e il killer protetto dal quartiere lo vediamo nell'apertura della pagina appunto arriva questa notizia dal mattino la guata in piazza nazionale caccia chi sta coprendo l'uomo che ha colpito Noemi infatti è questo il principale il principale atto di forza che stanno seguendo le forze dell'ordine proprio perché sembra che ci sia qualcuno che stia nascondendo quest'uomo ma questo è ancora più vergognoso Salvini a Santo Bono con i medici i genitori della bambina oggi atteso anche Mattarella quelli che lo stanno aiutando sono gli unici che non si sono commossi all'orrore di piazza nazionale si aggiunge la vigliaccheria di chi sta coprendo la latitanza dell'uomo nero quello che ha fatto fuoco contro Salvatore Nurcaro che ha ferito gravemente la bambina di soli quattro anni e ieri a Santo Bono è arrivato il ministro Salvini che si è intrattenuto con i medici e i genitori della piccola e ancora vediamo in ospedale lo shock del chirurgo che racconta di una ferita da guerra riportata proprio da questa bambina insomma una pistola uno strumento di morte che viene utilizzato esclusivamente in guerra e intanto l'intervista a Maroni modello caserta impegno costante ed eccezionale in questo articolo di Gigi Di Fiore infatti riproporre quello che nel 2008 fu il modello caserta per Maroni che era allora ministro dell'interno e ne fu uno degli ideatori quello fu un impegno costante ed eccezionale oggi lo riporta in primo piano e ancora vediamo in retroscena Sanità Campana la ragioneria consiglia lo stop al commissario ma il ragioniere dello stato uscente Daniele Franco durante una riunione tecnica ministro del ministero dell'economia ha spiegato al titolare del di Castero Giovanni Tria che non ci sono spazi per il governo di nominare un nuovo commissario per la sanità in Campania la regione infatti spiegato ha migliorato sia la gestione finanziaria sia la qualità delle prestazioni erogate e intanto vediamo nel commento che troviamo nella parte sinistra della pagina la Napoli complice che accetta l'illegalità è il racconto appunto di quello che accade purtroppo mentre c'è chi comunque piange per le vittime piange per quella che è una città deturpata dall'orrore e dalla guerra dalla guerra perché così si deve chiamare che cosa accade che c'è chi nasconde chi fugge e chi comunque commette ancora violenze e queste sono le due facce di una medesima medaglia intanto nella parte centrale della pagina da Londra è il settimo in linea di successione al trono It's a Boy la Gran Bretagna festeggia il Royal Baby con sangue però afroamericano e intanto vediamo sempre in Italia il piano anti-evasione controlli mirati su conti correnti il tesoro da Elvia Libera al superanagrafe accertamenti sui saldi di inizio ma anche di fine anno intanto il caso arriva in consiglio dei ministri per domani è tutto pronto per Siri ora la procura indaga sull'acquisto di due appartamenti anche su questa prima pagina la polemica del salone del libro se la sinistra rinuncia alla forza delle idee e ancora continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo il manifesto in questa giornata e nella parte alta si parte da Trump che affossa le borse cinesi la Casa Bianca annuncia infatti i nuovi dazzi e intanto Israele e Palestina Gaza la tregua più fragile più fragile intanto nella parte centrale della pagina ecco qua vediamo un'immagine del saloon del libro così lo chiama questa mattina e così titola il manifesto proprio per parlare di questo scontro in termini infatti la presenza tra gli stand di Torino di un editore dichiaratamente fascista ha portato a otuirci e autori a dividersi e se sia giusto o meno partecipare in che forma ma essere messa in discussione la presunta egemonia della sinistra nella produzione culturale italiana e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano vediamo la stampa di Torino ed ecco qua proprio da qui il salone del libro finisce nella trappola dell'editore di Casa Pound la lettera del museo di Auschwitz se loro sono dentro siamo fuori noi infatti cresce la ponemica per la presenza al salone del libro di questo di questa altaforte casa editrice vicino a Casa Pound la lettera del museo di Auschwitz se loro sono dentro siamo fuori noi gli editori concordi noi restiamo e intanto vediamo la via d'uscita la soluzione nella legge Mancino mentre Minniti sicurezza il modello del governo è vecchio e inefficace e intanto anche qui vediamo un principe Yankee a Buckingham Palace è ripazzo di gioia e infine Di Maio su Siri i 5 Stelle pronti a votare la recolta nel CDM ancora vediamo gli altri fatti in primo piano passiamo alla parte economica la guerra dei Dazi quella tra USA e Cina che manda le borse al tappeto mentre le capitali e le politiche industriali l'Unione Europea perde ancora una volta la sfida e Bonomi di Asso Lombardia un delitto è il ritorno al sovranismo economico mentre Leonardo porta i fornitori in elita e intanto San Marino in crisi cerca la sfonda russa insomma cerca di trovare una soluzione in media sette nella parte bassa della pagina un dossier di alleanze in CDA e l'intervista a Maione Elena va reso ai soci il 60% in tre anni e ci spostiamo adesso su altri quotidiani nazionali questa volta andiamo ad esaminare la parte sportiva proprio per renderci conto di quello che in questi giorni e in queste ore in particolare sta accadendo e cominciamo dal corriere dello sport Champions Liverpool assalta il Barsa senza Sala e Firmino e il VAR intrigo in 3D rigore del San Paolo contestato dal Cagliari frutto dell'elaborazione tridimensionale delle immagini una novità che molti ignoravano e intanto l'esclusivo viene raccontato da questa prima pagina Giulini noi tenuti all'oscuro e nella parte centrale della pagina il Milan riparte sfida Champions Diavolo a 4 Gattuso infatti stende il Bologna per 2 a 1 agganciata la Roma al quinto posto e rientra in gioco con Inter e Atalanta salite intanto con Bacaioco e nella parte bassa della pagina ecco Ibra io sto con Max e infatti nel confronto tra giochisti e risultatisti il rompe Zlatran nel calcio conta soltanto vincere intanto in signe o in sipido mentre Lorenzo sembra aver deciso di restare una stoccata di capello riapre un dibattito che divide Napoli ed infine nella parte bassa Foggia scatto play out la salernitana esonera Gregucci operazione salvezza con Menchini ancora vediamo gli altri fatti in tema sportivo con tutto sport il supermercato Juve da Di Bala Pogba tutti i possibili movimenti dei bianconeri in uscita in entrata la lista comprende 13 uomini per gli acquisti e 6 per le eccessioni valutiamoli uno per uno all'interno proprio di queste pagine intanto il Cairo sfida Agnelli il presidente del Toro all'attacco prima di partire per Madrid dove si incontreranno le 3-5 leghe europee vogliono creare una super champions per pochi eletti una vergogna uno scandalo e una scelta scelerata qualcuno vuole ammazzare il calcio per aumentare il proprio fatturato e nella parte bassa della pagina eccoci qua il nuovo stadio del Tottenham un gioiello da un miliardo i segreti segreti svelati dall'italiana che ha lavorato al progetto mentre nella parte centrale moto una 17enne a Ranch vale provino per Beatrizia la spagnola Neila fra i 5 partecipanti al campo del VR46 e Novara KO per il volley femminile la festa conegliano la Igor Lotta ma si arrende al tie break scudetto a Limoco e anche per questa prima parte della rassegna stampa è tutto ma non finisce qua e quindi adesso vi lascio a qualche attimo di pubblicità ma mi raccomando non andate via perché ritorniamo fra brevissimo grazie a tutti grazie a tutti all'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro ed eccoci ancora una volta in studio pronti per raccontare i fatti che riguardano la regione Campania in particolare la provincia di Caserta e tutto il territorio ma cominciamo subito a vedere le immagini della fiaccolata che ieri sera si è svolta a Napoli proprio in onore di questa bimba di 4 anni colpita in mezzo alla strada ovviamente come se fosse un ostacolo da superare e vediamo infatti le mamme di Napoli in preghiera davanti all'ospedale dove è ricoverata Noemi Noemi lottiamo con te forti guerriere e infatti le mamme di Napoli pregano per la piccola Noemi ferita venerdì sera in piazza nazionale durante un agguatto di camorra sono mamme del rione sanità di Napoli appartenenti all'associazione forti guerriere si sono dati appuntamento davanti ai cancelli dell'ospedale Santo Bono dove è la piccola rotta per sopravvivere candele preghiere un cartello Noemi lottiamo con te e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano sempre da quotidiano La Repubblica e vediamo che a Capodimonte c'è un restauro aperto per il capolavoro di Canova e infatti vediamo anche qui delle immagini che raccontano questo percorso e lo raccontano proprio attraverso le immagini di questa scultura e andiamo a vedere proprio che all'atere della grande esposizione dedicata al rapporto tra Canova e l'antico in corso al Museo archeologico nazionale di Napoli il Museo di Capodimonte propone Canova un restauro in mostra a cura di Maria Temaio Contarini e Alessia Zaccaria fino al 30 settembre prossimo ai visitatori sarà così offerto un percorso museale di un originale cantiere aperto del restauro del calco di Letizia Ramolino opera dello scultore Veneto il direttore del museo Real Bosco Silvan Bellinger sottolinea il profondo rapporto tra Canova e Napoli e la sinergia tra i due musei il gesso di Letizia Ramolino dal 1957 a Capodimonte nonostante alcuni danni e interventi precedenti non adeguati e forse la migliore copia esistente del marmo originale conservato nella collezione di Capsworth House nel Demoshire i restauratori lavoreranno sotto gli occhi dei visitatori che potranno anche chiedere loro informazioni insomma una bellissima iniziativa per consentire alle persone di vedere effettivamente come veramente si opera per intervenire nei confronti di queste grandi opere d'arte e ancora vediamo la cronaca nelle pagine di Repubblica Salvini snobbe ai familiari delle vittime innocenti di Camorra ci ha deluso fortemente dicono e infatti nel teatro metropolitano di Aversa ad attendere Salvini c'erano anche alcuni familiari di vittime innocenti di Camorra indossavano ognuno una maglietta bianca con la foto del familiare ucciso e portavano anche uno striscione ben visibile con le foto dei familiari e la scritta vittime innocenti siamo venuti perché aspettiamo una risposta al ministro Salvini ha detto Giovanna Paiuca sorella di Genovese ragazzo ucciso a Teverola dal clan di Francesco Bidognetti il 19 gennaio del 1995 con accanto Rossana Pagano e Arturo della Corte ci aspettiamo che i nostri familiari vengano riconosciuti anche dal ministero come vittime innocenti poco più di un mese fa abbiamo consegnato una lettera al ministro Salvini spiegando le nostre ragioni ora ci aspettiamo almeno una risposta ma a quanto pare la risposta è stata deludente e infatti dice io le lettere non le leggo ne ricevo tante ha detto il ministro parole che ci hanno deluso fortemente secondo Giovanna Paiuca eppure avevano parlato anche con l'onorevole Canta la Messa ma anche lui ha detto candidamente di non saperne niente a una presa in giro non meritiamo tutto questo afferma ancora la sorella di Genovese Paiuca insomma questa è una realtà che è stata raccontata appunto da queste persone che ieri con tanta speranza sono andate incontro al ministro dell'interno e la risposta è stata una classica risposta di chi non sa assolutamente nulla e questo non è proprio possibile e ancora vediamo le altre notizie che arrivano dalla Repubblica Casabesena Papa Francesco riduce allo stato laicale il prete accusato di violenza sessuale infatti stiamo parlando di Don Barone arrestato insieme ad un poliziote i genitori di una ragazzina sulla quale praticava esorcismi senza alcuna autorizzazione del vescovo e ancora in carcere sotto processo al tribunale di Santa Maria capovetere finalmente il Papa Francesco ha cominciato ad agire proprio in questa direzione ed ancora vediamo le notizie sportive Napoli Mertens compie 32 anni e dice voglio restare qui infatti è un giorno importante per il Napoli Dries Mertens festeggia 32 anni e la società azzurra ha naturalmente celebrato il suo campione tra i migliori anche domenica sera con il Cagliari è stato lui a dare il via libera alla rimonta realizzando di testa il gol del momentaneo pareggio e ancora le notizie che arrivano dal mattino c'è un tragitto stiamo parlando ancora di Noemi questa volta però di chi ha coperto chi è comunque la mano di chi ha compiuto il danno nei confronti della bimba c'è un tragitto quello della fuga che potrebbe essere decisivo la strada di ritorno rientro la parte più delicata di un agguato quando ormai l'effetto sorpresa è svanito l'aria intossicata da polvere da sparo e le facce della gente attorno contratte dalla paura è la strada del rientro della fuga il percorso usato dal killer per tagliare la corda e sparire nel nulla e la domanda che adesso tutti ci poniamo è chi ha aiutato quest'uomo questo killer e ancora vediamo le altre notizie che arrivano sempre dal mattino Sanità e il tesoro Salva De Luca no al commissario in Campania e infatti sulla sua strada Vincenzo De Luca ha incontrato un alleato inaspettato per evitare lo sbarco al suo posto in Campania di un nuovo commissario della sanità il ragioniere dello stato uscente Daniele Franco infatti durante una riunione tecnica al ministero dell'economia Franco a lasciare il suo incarico e prossimo a ritornare in Banca d'Italia dove lo aspetta un posto di vice direttore generale avrebbe spiegato a titolare del di Castero Giovanni Tria che non ci sono spazi per ritornare e per il governo di nominare un nuovo commissario come invece chiede la responsabile della salute Giulia Garrillo quindi ancora una volta un nulla di fatto e ancora sempre dal mattino Napoli chiama Spagna e Portogallo la sfida dell'innovazione digitale arriveranno al Teatro San Carlo non prima di mezzogiorno per prendere parte alla giornata conclusiva del tredicesimo simposio di Cotec Europa la fondazione che opera in sinergia con la Fondazione Cotec di Spagna e l'Associazione Cotec del Portogallo per contribuire a orientare le politiche della ricerca e dell'innovazione dell'Unione Europea in particolare nell'area del Mediterraneo insomma buone notizie per chi è proprio interessato all'avanzamento ed ancora emergenza lavoro scusate il ministro Buongiorno apre al Maxis concorso e annuncia un bando in estate e ci spostiamo adesso sulla parte relativa a Caserta News appunto le notizie che arrivano da Caserta alla sua provincia abbattute infatti la villa abusiva usata come set per un film e manufatto è stato utilizzato per una scena del vizio della speranza il regista De Angelis presente alla demolizione vediamo queste immagini abbattute infatti sul lungomare di Castelvolturno in località Bagnara la villa in cui è stata girata la scena finale del pluripremiato film del regista casertano Edoardo De Angelis il vizio della speranza parto della protagonista Pina Turco alle 7.30 di ieri infatti l'apertura dei cantieri per dal luogo all'abbattimento della terza delle tre ville la cui demolizione hanno avuto inizio proprio il 2 maggio scorso e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano dopo la pioggia copiosa di ieri una scuola chiude e vediamo infatti che si parla della scuola di Amicis di Corso Giannone a Caserta che ha annunciato la serrata per ripristinare le condizioni di sicurezza e infatti a seguito delle intense piogge è stato dato l'annuncio agli studenti ma anche all'intera città e nella giornata di oggi questa scuola è rimasta chiusa ma ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano ci spostiamo adesso su Caserta Focus assistenza ai bambini autistici revocato il DCA31 salvata la terapia va la soddisfazione di Graziano e Oliviero lo vediamo proprio da questa prima pagina di Caserta Focus e si parla proprio della revoca del DCA sulle linee di indirizzo per la diagnosi e la presa in carico delle persone con disabilità intellettiva in età evolutiva per fare ulteriori approfondimenti ed è questa una buona notizia così il presidente della commissione regionale di sanità e il consiglio regionale della campagna Stefano Graziano il provvedimento odierno è positivo perché permette di salvaguardare le sperimentazioni in atto in alcune asle del territorio ma è chiaro che il nostro obiettivo deve essere uniformare l'assistenza su tutto il territorio regionale in modo che a tutti siano garantite le stesse terapie e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano sempre da Caserta Focus danni anche su questa prima pagina per la scuola De Amicis abbiamo già visto che comunque in questa giornata la scuola è rimasta chiusa danni che comunque dovranno essere valutati e soprattutto attenzionati come oggi si suol dire proprio per detenere una maggiore rigore proprio in una scuola che rappresenta la prima meta degli studenti e quindi ci vuole maggiore tutela e ancora vediamo nella prima pagina di un altro quotidiano che vive Campania vediamo i fatti raccontati su questa prima pagina si parla di street art l'ambasciatore di Spagna riceve infatti la tela di Don Pedro nei quartieri spagnoli in World l'Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ha donato ai residenti decine di opere dello street artist napoletano Labbo proprio in occasione della visita dell'ambasciatore di Spagna in Italia Alfonso Dastis nella sede della fondazione Focus l'Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana in World ha animato i vicoli dei quartieri spagnoli insomma tutta una creatività in primo piano per raccontare che dall'emergenza e anche dalla violenza si esce attraverso la cultura l'arte e soprattutto la capacità di reinventarsi e con questa ovviamente attenzione termina qui la rassegna stampa anche per questa giornata vi ringrazio per aver scelto Teleprima vi ringrazio per aver seguito la rassegna stampa e come sempre ringrazio Tecnocampus che ci offre la possibilità di fare informazione farla a 360 gradi e soprattutto di raccontarvela in termini pratici e per oggi è tutto vi auguro una splendida giornata e come sempre ci vediamo domani grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecnocampus grazie a tutti grazie a tutti